E' un bilancio purtroppo pessimo perché non ha ottenuto i risultati che doveva ottenere, ma anche per un semplice fatto. La Tobin Taxi va fatta a livello europeo, non solo, non bisogna concentrarsi solo ed esclusivamente sulla Tobin, perché la Tobin su un intero comparto serve sì a inflazionare un po' il comparto e quindi probabilmente spostare anche l'interesse verso l'economia reale, che è quello che il Movimento 5 Stelle vorrebbe, economia reale sostenibile, perché è differente da quella insostenibile, ma concentrarsi principalmente sul capital gain, ovvero sul guadagno che si fa nelle transazioni e ancora di più, quindi aumentare i tassi ancora di più sulle 24-48 ore. Chi gioca non può giocare sul mercato finanziario, sulle spalle delle aziende che poi rischiano anche di fallire.